Lesioni gravi. Al momento è questa l'ipotesi di reato per Roberto Spada, ma con l'acquisizione dei referti medici i magistrati potrebbero riqualificarla in gravissime. Le cartelle cliniche di Daniele Piervincenzi, che ha il naso rotto, e del suo operatore Edoardo Anselmi, che ha riportato un trauma cranico, sono state inviate alla direzione distrettuale antimafia, che indaga. Cosa ricorda di quei momenti? L'incredulità.